A spasso fra gli stand di Expo Sanità incontriamo Autolift, un marchio di montascale d'eccellenza che ci offre una bottiglietta d'acqua con scritto sopra Autolift. Francesco Farina, responsabile, un sorso di novità? Sì, Autolift è l'azienda che oggi rappresenta la novità in questa occasione. Per la prima volta siamo presenti in Expo Sanità, questo palcoscenico interessante che ci permette di entrare in contatto con tantissime realtà di operatori nel settore, nel tecnico ortopedico, nei negozi di ortopedia, progetto nel quale Autolift oggi sta investendo e continuerà a investire molto. Autolift è ormai sinonimo di innovazione e di novità. Oggi l'occasione è quella di lanciare un ulteriore prodotto che non ha alcun precedente nel mercato, un sistema modulare su misura che ci consente di andare a ridurre notevolmente i tempi di realizzazione dell'impianto e di consegna per l'utente finale, a vantaggio delle persone che oggi hanno esigenza di tempi molto ristretti e che hanno imbediatezza, hanno necessità di avere una soluzione nell'immediato. Questo è un messaggio chiaro per gli operatori della salute e coloro che stanno accanto tutti i giorni a chi ha mobilità ridotte? Sì, assolutamente. Per gli operatori del settore oggi Autolift è un'alternativa valida, con prodotti di qualità, interessante, è l'unica azienda ad offrire una gamma di tre soluzioni dal montascale doppio tubolare inventato da Autolift nel 1995 e sviluppato poi negli anni successivi a soluzioni monoguida. Oggi noi abbiamo in gamba la soluzione a rotaia singola più sottile del mercato, con l'innovazione della sistema modulare diventano tre e questa è un'opportunità importantissima per gli operatori del settore perché possono consigliare i loro utenti, i loro clienti verso un'azienda che ha fatto del montascale a poltroncina la sua punta di diamante. Autolift lo troviamo anche a Expo Sanità, come mai un marchio di eccellenza nel montascale è presente a un tipo di fiera per operatori di settore? Lo chiediamo a Giulio Fettuoso, responsabile del settore ortopedia. Quest'anno Autolift si è presentata a Expo Sanità perché è una fiera, come diceva lei, del settore specifico dove c'è la presenza di tanti operatori come ortopedie, sanitari e fisioterapisti ed è un canale che Autolift ha deciso di seguire per poter portare sempre più la conoscenza del nostro prodotto alla clientela e agli utenti che hanno la necessità di accedere a questo tipo di soluzione. Siamo partiti con un progetto forte già da un paio d'anni, siamo già andati presso alcuni punti di riferimento di ortopedie del nord Italia, ma attraverso Expo Sanità contiamo di poter essere riconosciuti e visti attraverso tutte quelle che sono le realtà che ci sono sul territorio nazionale. La nostra presenza era puntata anche sul fatto che contavamo di portare un messaggio di innovazione perché in questo momento ciò che viene richiesto dall'utente è di poter avere un interlocutore che possa offrire una soluzione in termini sia tecnologici così come Autolift in questo momento è in grado di offrire anche sotto il profilo dell'approccio economico che sia un po' più adeguato rispetto a quelle che sono le esigenze che si stanno sviluppando con l'implemento di queste soluzioni nel mercato. Alle nostre spalle c'è un van completamente attrezzato, è vero che Autolift arriva veramente da tutti? Certo, certo, Autolift arriva da tutti e con questo van contiamo di poter arrivare laddove l'utente ci chiama e ha la necessità di toccare con mano la realtà del prodotto che vorrebbe andare ad acquistare e con questa soluzione siamo in grado proprio di far vedere le due soluzioni tecnologiche del doppio binario piuttosto che della monorotaia più sottile che è in grado Autolift oggi di produrre e mettere in condizione l'utente di fare una scelta consapevolmente su ciò che sta andando a scegliere. Oltretutto questo van verrà anche utilizzato con le ortopedie per organizzare insieme a loro delle giornate di Open Day dove andremo a supportare la nostra collaborazione con gli operatori proprio organizzando delle giornate dove gli utenti saranno in grado di poter venire anche in questo caso toccare con mano valutare la qualità del prodotto Autolift presso l'ortopedia di fiducia che sarà il referente per la loro presenza sul territorio. Autolift